Sarà realizzata una rotatoria tra la strada comunale di località Marrota e la via del mare ad Agropoli. A tal proposito è stato pubblicato il bando di gara con procedura aperta a cura della centrale unica di committenza dell'Unione Comuni Alto Cilento, che sarà giudicato con il criterio del minor prezzo. L'importo complessivo degli interventi, base d'asta è pari a 145.870 euro. I lavori sono finanziati con un mutuo contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti. La durata dei lavori è fissata in 90 giorni decorrenti dalla data di consegna definitiva dei lavori. Si tratta di un'arteria molto trafficata perché il collegamento con le principali strade cittadine è che si trova a poca distanza dallo svincolo Agropoli Sud quotidianamente percorso da centinaia di automobilisti. Un tratto che nel recente passato è stato anche teatro di numerosi incidenti. L'intervento interessa una porzione di tronco stradale lungo la strada regionale ex strada statale 267, ora strada comunale Marrota, situata in corrispondenza dell'intersezione con la via del mare nei pressi dell'ospedale dove sarà realizzata la rotatoria. Tale infrastruttura nasce allo scopo di facilitare l'insegnamento sulla viabilità principale dei mezzi provenienti da e verso il centro della città, attualmente caratterizzata da un incrocio canalizzato a elevato grado di pericolosità per la scarsa visibilità, le ridotte dimensioni della careggiata e la promiscua direttiva di traffico in ingresso uscita, unita ad un traffico veicolare sostenuto anche dai mezzi pesanti diretti verso l'area portuale e il centro cittadino. Il progetto esecutivo venne approvato negli scorsi mesi dalla giunta comunale guidata dal primo cittadino Adamo Coppola. Dopo la realizzazione della rotatoria in località Mattine, afferma il sindaco Adamo Coppola, molto attesa in special modo dai residenti, ci apprestiamo a realizzare una nuova infrastruttura similare tra la località Marrota e la via del mare. Miglioriamo la viabilità per offrire maggiore sicurezza agli utenti della strada.